Gentili telespettatori, buona giornata. E arrivano problemi anche sui conti correnti. Un bel salasso. Eh sì, negli ultimi sette mesi il costo dei depositi tradizionali è salito del 6,7%, con una spesa in più per le famiglie di circa 150 euro. Gli aumenti hanno riguardato le spese fisse a partire dal canone annuo e i conti classici, più che quelli online e innovativi, sono cresciuti dell'1,75% e restano molto più convenienti con medie intorno ai 40 euro. A fare il punto su quello che è accaduto ai nostri conti e su quello che potrebbe accadere sono le rilevazioni al 21 di settembre scorso, confrontate con quelle all'8 febbraio di quest'anno, da altro consumo. Come fa sapere appunto altro consumo, i costi complessivi dei conti correnti tradizionali aumentano del 7%, sia per pensionati, che hanno visto un incremento da 136 a 145 euro, sia per i giovani per i quali il prezzo è cresciuto in media da 69 a 74 euro. L'aumento è stato del 6% per le famiglie con operatività media, il cui indicatore dei costi complessivi è lievitato da 145 a 153 euro. E a quanto pare il trend di crescita non si fermerà a breve, gli incrementi potrebbero proseguire per tutto l'autunno con rincari inaspettati proprio sul conto. Una notizia che di certo va ad aggravare la situazione nelle tasche degli italiani, già piegata dal caro energia e dall'inflazione che sta di fatto erodendo il potere di acquisto delle famiglie. Quindi un autunno caro e caldo proprio su tutto, anche i conti correnti aumentano. E voi direte, ma cosa c'entra il conto corrente che aumenta? Perché deve aumentare? Che è una cosa virtuale. E aumenta perché i costi per le banche aumentano. Anche le banche pagano la luce, anche le banche pagano il gas, anche le banche pagano l'aumento di tutti i vari costi e servizi. E questi aumenti dove finiscono? Finiscono sul vostro conto corrente, che vi aumentano il costo del conto corrente per pagarci la banca, la struttura e guadagnarci anche, ovviamente. Quei soldi lì che voi pagate non sono solo per coprire i costi, coprire i costi e guadagnarci. Insomma, le banche guadagnano con il denaro perché ricordatevi che il denaro è una merce come tutte le altre che trovate in un supermercato. Il denaro si compra e si vende. Quando vi fanno un prestito, un mutuo, vi stanno vendendo il denaro a un costo. Il costo qual è? La tassa di interesse. Loro prendono 100 euro dalla banca centrale, che gli costa un piccolo interesse. loro rivendono il prodotto moneta, vi vendono i soldi tramite un prestito, dove così poi loro ci pagano il capitale con quel piccolo interesse, vi mettono sopra un interesse più alto così loro ci guadagnano. Questa è una banca. Una banca è un'impresa commerciale che compra e vende denaro. Dove lo compra? Dalla banca centrale. Ecco, che è praticamente il grossista che gli vende il denaro a un certo prezzo. Noi possiamo comprare il denaro dalla banca centrale? No. Le banche centrali non ci fanno il mutuo a noi. Ce lo fanno le banche dopo che hanno comprato il denaro dalla banca centrale o utilizzano quello che hanno loro che prendono da altri clienti. prendono i soldi da altri clienti e li prestano a te, perché quei soldi comunque hanno un costo più basso di quel denaro preso alla banca centrale. Insomma, è tutta una spiegazione un po', ve l'ho fatta molto ma molto più semplice di quella che potrebbe essere una spiegazione universitaria, giusto per capirci. Intanto attenzione, come vi raccontavo in un video ieri, al conguaglio del gas questo mese, perché adesso le bollette andranno pagate mensilmente. intanto Matteo Salvini ricatta la Meloni? Un articolo su Libero dice che la Repubblica, il giornale quotidiano, tocca il fondo, la Lega insorge perché Salvini non sta ricattando Meloni. Voi sapete che i giornali che cosa fanno? O danno la notizia, la notizia è quella, no? Di Maio non entra in Parlamento perché non ha raggiunto il 3% e manco l'1% per la poltrona. Bene, quella è una notizia. E poi ci sono le famose indiscrezioni. Come fanno i giornali a dire qualcosa che vogliono dire che non è vero? Dicono che hanno sentito qualcosa da qualche politico di cui però non si può fare il nome perché è una fonte riservata. Allora nascondendosi dietro la fonte riservata i giornali di un certo tipo dicono quello che gli pare. Quindi, ad esempio, la Repubblica dice Matteo Salvini ricatta la Meloni, chi ve l'ha detto? L'ha detto Salvini? No. Ce l'ha detto un uccellino di cui però non possiamo fare il nome per tutelare la fonte ma voi dovete crederci perché noi siamo un giornalone e allora noi vi diciamo per certo che c'è qualcuno vicino, vicinissimo al leader politico che ci ha riferito immediatamente che Matteo Salvini ricatta la Meloni. Ecco, in questo modo nessuno può verificare se siano cose vere o false. Perché? Perché non c'è modo. E i giornali si nascondono dietro il fatto che sono notizie riservate, sono indiscrezioni che arrivano. Pertanto non sono verificabili. Il giornale lo sa. E quando gli serve attaccare un politico tira fuori l'indiscrezione. Naturalmente un giornale serio non lo fa. Non inventa bugie. Un giornale serio l'indiscrezione è vera. Però come si fa noi a sapere quale sia un'indiscrezione vera e quale sia un'indiscrezione falsa? Non lo sappiamo. Dobbiamo credere e fidarci in quello che scrivono. Ma gli italiani cominciano a non fidarsi più dei giornali. Perché hanno visto che sia da una parte che dall'altra raccontano un sacco di frottole. Un sacco di frottole. Diciamo che siamo tendenti alla bugia cronica. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti nuovamente. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete. E poi c'è anche In Cucina con Carla che è un canale di ricette di mia moglie. Vi invito a dargli un'occhiata. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Grazie a tutti.